Da Attila, passando per Castro, fino a Napoleone, i grandi della storia ci hanno avuto il carattere di Lina. Riusciva a capire chi aveva di fronte. Questa era una visione molto speciale, artistica, sempre a carnival, sempre a divertimento, sempre a motione constante, molta energia. Tanto, tanta roba, tante idee. Era sempre una sorpresa vedere fino a che punto Lina spingeva gli autori e la situazione. I miei occhi, i miei capelli, era tutto un altro viso.